Si dice dispiaciuto il segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova, del fatto che la maggioranza consigliare che sostiene la Giunta Abate abbia espresso un pronunciamento negativo sulla richiesta della CGL di dedicare una seduta aperta al Consiglio Comunale sulla problematica delle due partecipate comunali, la SPM e la Multiservizi. Mi ha chiesto il confronto in consiglio perché gli interventi che nei prossimi mesi la Giunta Comunale dovrà operare sulle due partecipate potrebbero rilevarsi dolorosi per chi di essi ne sarà il destinatario. Perciò tale scelta lascia perplessi perché un diniego di tal genere sembrerebbe voler dire o meglio sembra testimoniare che la maggioranza consigliare sulle problematiche su cui potrebbe trovarsi nel confronto in difficoltà sceglie di non dare spazio al dialogo democratico con i cittadini e con le parti sociali, si legge testualmente nella nota della CGL. Sembra una scelta di scarsa sicurezza politica, continua duramente Terranova. Sembra ancora una volta un atteggiamento di autosufficienza che lambisce il rischio dell'arroganza o di quel senso di onnipotenza tipico delle maggioranze in cui a decidere solo uno non risparmia quindi critiche forti contro il primo cittadino Ignazio Abate. Terranova scrive che non appare salutare sul piano democratico che le posizioni della maggioranza consigliare si appiattiscono su quelle della Giunta consigliare la quale ha dato prova ancora una volta della sua scarsa propensione alla costruzione dei processi decisionali quando si tratta di problemi complessi o delicati attraverso il coinvolgimento democratico del contesto portatore delle esigenze e della problematica da trattare. Da parte sua, con altrettanta nota ufficiale, la maggioranza consigliare punta invece il dito contro la CGL stessa definendo la critica all'ennesima mossa populistica e demagogica per ottenere consensi. Intanto qualcosa si è mosso, il 21 gennaio ci sarà una conferenza dei capi gruppo aperta sull'argomento.